Nonostante il momento più difficile degli ultimi anni, al Policlinico San Matteo l'attività di medici ed infermieri non si ferma alla sola cura dei pazienti affetti da Covid-19. Nell'ospedale pavese continuano infatti anche i trapianti. L'ultimo caso riguarda un cinquantenne pavese che per due mesi è rimasto ricoverato all'interno dell'unità di terapia intensiva cardiologica in attesa di un cuore nuovo. L'uomo aspettava il trapianto cardiaco da sei anni. L'organo è arrivato il 26 febbraio nei giorni successivi all'esplosione della pandemia e l'operazione era stata portata a termine con successo. La scorsa settimana il cinquantenne era pronto per essere dimesso e tornare alla sua famiglia quando un'emorragia cerebrale spontanea senza possibilità di trattamento ha messo fine alla sua vita. Ma la catena di solidarietà nata dal primo trapianto non si è spezzata e così è stata data esecuzione sia al testamento biologico che lo stesso paziente aveva redatto sia alla volontà della sua famiglia. Il cinquantenne ha donato il fegato, trapiantato su un 63enne ricoverato all'eguarda di Milano ed entrambi i reni, trapiantati a due uomini di 61 e 65 anni, ricoverati al San Raffaele. L'equipe del San Matteo, composta da 12 tra medici ed infermieri, si è mossa solo dopo la conferma della negatività al Covid-19 offrendo così una nuova speranza di vita ad altri tre pazienti.